Ieri a Napoli riunione inaugurale per la nuova assemblea regionale per proclamare gli eletti nel Consiglio. Oltre alla conferma del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca e dei consiglieri, è stato eletto il presidente del Consiglio che ha visto in Gennaro Oliviero l'uomo che presiderà appunto l'assise regionale. Eletto a Caserta nella lista del PD succede a Rosetta D'Amelio destinata ad assumere l'incarico di consigliere delegato del presidente per le aree interne. Oliviero sarà affiancato da due vice, Valeria Cerambino del Movimento 5 Stelle e Loredana Raia del PD. Rinviato il discorso programmatico del governatore Vincenzo De Luca impegnato sul fronte dell'emergenza sanitaria. I lavori che hanno aperto l'undicesima legislatura regionale sono stati coordinati dal consigliere anziano Alfonso Piscitelli di Fratelli d'Italia. Ho accettato questo incarico in un periodo sicuramente delicatissimo per la nostra regione, ha dichiarato Oliviero. L'istituzione che ci onoriamo per volere di popolo o di servire dovrà avere credibilità, autorevolezza, popolarità. A nessun cittadino campano, uomo o donna di questa importante regione, l'istituzione regionale dovrà apparire lontana o estranea. Il mio impegno di presidente di consiglio è riferito a tutti i cittadini campani. I prossimi giorni costituiranno un banco di prova per tutte le istituzioni democratiche chiamate a garantire il diritto alla salute e la coesione sociale ed economica, ha affermato rivolgendosi all'Assemblea. Il presidente del consiglio regionale ha sottolineato che le due priorità del momento, la salute pubblica e l'economia potranno essere affrontate adeguatamente solo attraverso un approccio democratico. Dialogo, coesione, rispetto reciproco e solidarietà sono i pilastri di una politica che nelle prossime settimane e mesi dovrà risollevarsi dai danni che sta provocando la pandemia. La vicepresidente Ciarambino ha dichiarato con orgoglio che il Movimento 5 Stelle è la prima forza di opposizione del nuovo consiglio. Per Ciarambino la delicatezza della fase impone un confronto oltre lo steccato politico nell'interesse della comunità regionale. Infatti ha proposto un tavolo di confronto permanente con le opposizioni sull'emergenza sanitaria perché la politica regionale deve parlare a una sola voce per non alimentare la confusione e il disorientamento che imperano.